Buongiorno, sono Annalisa Marani, ho 47 anni, sono nata e vivo a Rovigo. Attualmente mi occupo di gare da patto in una società di servizi nella provincia di Padova. Questa è la mia specializzazione perché sono quasi 20 anni che svolgo questa attività. L'impegno politico nasce con il Movimento 5 Stelle nel 2007 quando entro a far parte come attivista e non ho mai fatto in precedenza parte di alcun partito. Attualmente sono il portavoce del Movimento 5 Stelle in lista al Senato in circoscrizione Veneto 1. Se fossi eletta in Folesine con il Movimento 5 Stelle mi batterei affinché la questione dei rifiuti come abbiamo già fatto presente nel 2011 durante le elezioni amministrative e sono un problema che va risolto ma non nelle discariche e negli inceneritori ma facendolo diventare una materia prima secondaria. Questo darebbe la possibilità di fare sperimentazione, eco-innovation, nuovi posti di lavoro e sarebbe un'alternativa a quello che è già presente come peculiarità in attività produttive nella provincia di Rovigo e comunque in tutto il Polesi. Le cinque cose importanti e principali da fare ovviamente tutte con la stessa importanza prima di tutto l'eliminazione dei rimborsi elettorali e l'equiparazione degli stipendi dei parlamentari alla media degli stipendi nazionali. Un tetto alle pensioni, non devono esistere le pensioni d'oro da 10-20 mila euro. L'abolizione di tutte le leggi vergogna, a cominciare dal falso in bilancio la depenalizzazione, meglio, del falso in bilancio e ovviamente una legge sul conflitto di interessi. Poi lotta all'evasione fiscale attraverso l'accordo con la Svizzera come era stato inizialmente improntato per il rientro dei capitali legalmente esportati all'estero e soprattutto con una congrua tassazione. E prima di tutto ovviamente è molto importante la creazione di un fondo per il microcredito per aiutare le piccole e medie imprese che sono letteralmente in ginocchio in questo momento difficile. Come promessa in caso di elezione è molto difficile perché la posizione in lista non mi permetterà di entrare all'interno della massima istituzione ma questo non è un problema, si rimane sul territorio, si lavora attivamente si raccolgono quelle che sono le esigenze e si portano ai nostri portavoce in Parlamento affinché siano loro a prendersi cura del nostro territorio e noi faremo la nostra parte.